Alla fortuna, Paolo, arrivando a Corinto, di incontrare una coppia, Priscilla e Aquila, Aquila è il marito, Priscilla è la moglie, che erano due ebrei, che erano stati cacciati da Roma, insieme a tutti gli ebrei di Roma, dall'imperatore Claudio, e quindi siamo all'inizio degli anni 50, in questo momento, quindi tra il 49 e il 50, l'editto che aveva proibito agli ebrei di vivere a Roma, rompeva talmente le scatole con le loro pretese, le loro abitudini, che c'è l'imperatore del Bastof, Fippoeder, dice andate dove volete, ma smettete di venire a rompere il naso a me, via via via. Questi due erano finiti a Atene, tra l'altro lui, Aquila, era tessitore di tende, lo stesso mestiere di Paolo, per cui con Priscilla, sua moglie, era appena arrivato dall'Italia, perché l'imperatore Claudio aveva espulso da Roma tutti gli ebrei, Paolo andò a casa loro e siccome faceva lo stesso mestiere, rimase con loro e li aiutava a fabbricare tende. Ogni sabato però andava nella sinagoga, si metteva a discutere e cercava di convincere tutti gli ebrei e greci interessati al Dio di Israele, che abbiamo visto in tutte le città più o meno c'era qualcuno. Quindi lui, come ha fatto ad Atene, che ancora prima del discorso della piazza ogni sabato andava nelle sinagoga e quando poteva, con i greci discuteva, parlava per strada. Anche qui, a Corinto non c'era l'abitudine dell'areopago, avevano gli affari, era un centro anche culturale ma soprattutto commerciale, quindi interessava potersi spostare, fare, brigare, concludere contratti, pigliare l'occasione e così via. Però il sabato nella sinagoga ogni settimana. Alla fine arrivano anche Sida e Timoteo dalla Macedonia. Allora Paolo si dedicò soltanto alla predicazione perché per guadagnarsi il pane, fare quei quattro lavoretti per guadagnarsi due palanche, ci pensano gli altri due. Di fronte agli ebrei, egli sosteneva che Gesù è il Messia mandato da Dio. Gli ebrei però gli facevano opposizione e lo insultavano. Quante volte sarà successo questa cosa? Nella vita di Paolo. È successo nel primo viaggio, succede nel secondo, succederà nel terzo, finché è campato ogni volta. I casi erano due. O trovava gli ebrei che in massa rifiutavano e lo insultavano, lo deridevano, eccetera, oppure trovava degli ebrei che erano disposti ad accettarlo. Nel primo caso doveva smettere di parlare perché le pigliava. Quando non avevano più ragioni per negare quello che lui affermava, passavano alle maniere forti. Negli altri casi, quando la comunità era disposta a cogliere il messaggio di Salvezza, finalmente quel Messia che aspettiamo è arrivato di Gesù di Nazareth, eccetera, eccetera. Tutti contenti. Arrivavano gli altri, gli ebrei che avevano rifiutato nella città precedente, i quali scombussolavano tutto e per Paolo finiva che le pigliavano di santa ragione. Comunque, ovunque andasse rifiuto, derisione, botte. E tutte le volte ricomincia, tutte le volte ricomincia, tutte le volte ricomincia. Cosciuti loro? Ecco, c'è la domanda però, secondo voi perché non si meraviglia più di tanto comunque di questo comportamento dei suoi connazionali? Ma perché anche lui c'è passato? Bravo! Non può dire, ma capivine voi, denigrarli per questo o giudicarli. Perché io ero peggio di loro. Ero peggio di loro. Se Gesù di Nazareth non mi avesse preso con le brutte, non avesse mica buttato giù da cavallo, sarei là ancora. Non solo a rifiutare, ma a pestare quelli che mi parlano di Gesù Cristo, a mandarli in galera. Lui era peggio. E' la consapevolezza che in fondo loro sono come era lui. E da qui il desiderio che anche loro però riescono a diventare come lui è diventato. A incontrare quel Gesù che lui ha avuto la fortuna che gli si è spiaccicato sul naso. Quando mi si prega per le conversioni, si spera che... Anzi, io direi quando preghiamo per la conversioni di questo e quello di quell'altro, si che ci convertiamo noi per primi. E dopo, perché è facile pregare perché si convertono gli altri e dimenticare che abbiamo bisogno anche noi di convertirci. E' vero o no? per primi. Io non devo, siccome carini, io la morire, la capizione, salvo che mi interessa Gesù Cristo. Ah, è vero? E' vero? Se ti interessa lui, non stai lì a guardare il risultato che ottieni dagli altri. infatti è quello che... Ogni tanto lo tiro fuori perché così lo ricordiamo. dopo aver detto, sì, lui non si meraviglia più di tanto Paolo perché vede che gli avrei sono così cociuti nel rifiutare, perché lui stesso era uno di loro. Ma perché va avanti? La seconda domanda è perché continua ad andare avanti? Perché comunque quello che ha trovato vale più dello smacco di vedersi rifiutati, di vedersi non ascoltati. che vive in lui è la gioia di sapersi essere stato accolto, essere stato amato, sapersi amato. Quello che manca molte volte a noi è questa consapevolezza. Si è stati battezzati, si è stati educati a conoscere alcune verità della fede, si è stati educati a vivere secondo i comandamenti, se vogliamo, secondo la volontà di Dio. Ma la gioia di sapersi amati si è detta davvero, se non si arriva lì. Manca argota, manca argota. L'etica del dono o lo appoglio o lo appoglio? Il dono, ma non è solo un dono che non è qualcosa che diventi tu, è lui che te lo dà. Ma il giorno che lo percepisci appunto ti rendi consapevole che c'è questo dono, saperlo apprezzare, saperlo apprezzare. Non ritenere una cosa da niente rispetto alla routine, anzi è qualcosa che gli dà un colpo d'aria diverso. Però qui c'è una cosa, dice che anche altri abitanti di Corinto ascoltarono quello che Paolo diceva e così credentero e si fecero battezzare. Grazie. 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 Grazie.